Fra i vari settori colpiti dalla pandemia aveva stato certamente anche quello dell'agricoltura. Tuttavia, secondo quanto riferito da Confagricoltura Belluno, fra i vari risvolti dettati dalla situazione d'emergenza, si evince anche come in molte occasioni siano stati privilegiati i prodotti locali. Io direi che la pandemia comunque ha messo in evidenza proprio la necessità di far ripartire la nostra economia. E da qui anche il consumatore si sta adeguando sempre di più a ricercare i prodotti del nostro territorio e soprattutto i turisti quando vengono vogliono mangiare i prodotti del nostro territorio e stanno molto attenti a questo. I propri turisti sono quelli che nel periodo ferragostano hanno garantito maggiore lavoro anche a malghe ed agriturismi. I nostri associati hanno avuto comunque delle risposte molto positive di presenze e alle volte si sono quasi trovati nella difficoltà proprio di ricevere le persone che arrivavano alla porta e hanno dovuto quasi allontanarle proprio per non andare incontro ad eventuali sanzioni perché noi cerchiamo anche di tutelare la salute senza dubbio di chi ci viene e viene nelle nostre aziende. Seppur nelle difficoltà della situazione attuale in virtù della pandemia, tuttavia la fiducia per il futuro non manca. Noi speriamo nei prossimi mesi di un po' alla volta di toglierci di torno questo virus, credo lo vogliamo tutti questo. Il mondo agricolo quest'anno già fa fatica negli anni buoni a chiudere i bilanci in attivo. Ci sono delle attività che faranno fatica sicuramente cercando di tutto per limitare le perdite. guardiamo comunque il futuro in modo positivo perché dal Covid sono emerse comunque delle cose che hanno aiutato anche a migliorare le nostre aziende.